Perché lui è il campione d'Italia in carica, Filippo Moyerson, in sella all'Oriopiana Canada. Lavoratosi quest'anno per la quarta volta campione d'Italia, Filippo Moyerson presenta nel Grand Prix d'Ogina T.I. World Cup presentato da Fixed Design, l'Oriopiana Canada, la 10 anni femmina, la Conde Tobolensky. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.